Ecco una ricetta semplicissima e velocissima per fare un'ottima pizza fatta in casa. Prepariamo gli ingredienti che abbiamo visto precedentemente. Iniziamo col versare la farina, l'acqua e iniziamo il nostro impasto, che sia con la macchina del pane oppure a mano. A questo punto aggiungiamo l'olio, il lievito ed infine il sale, come ultima cosa. Continuiamo ad impastare, aiutandoci magari con una spatola, fino a quando non otteniamo un impasto omogeneo. A questo punto lasceremo lievitare per almeno due ore. Passate le due ore potete fare la prova con il dito per vedere il livello di lievitazione se la pasta si presenta come questa è pronta per essere stesa, farcita e infornata. Buon appetito!